Pazzesco È perché è arrivato un aereo prima probabilmente Molto in batteria Saranno quelli di British Airways Questo è decollato veloce Quello prima ancora No, questo è più veloce È andato su, si vede che è più scarico Ma è un'altra parte questo qua Stai già mirando Compensa, compensa Stai mirando Stai mirando